Stiamo vedendo la 10x22 di Supernatural, ovviamente, lei si è sponerata tutto, io si è sponerata tutta la nostra giornata adesso, ma c'è ormai... Sì esatto, si è assa tutto, e siccome andiamo a vista che ci sono appunto parecchi video che girano sulle reazioni di questa puntata abbastanza inquietante, perché Dina è impazzito, per colpa del martio, e adesso vediamo come procede appunto la scena, che tutti dicono che è una scena tremenda e io vorrei rivedere. La cazza è l'edin. Sì. Vià. Vai. Sta faccia... È inquietantissimo. Abbastanza. Ho paura. È un po' di più, non è che i paura, non è un po' di più. Sì. Qual è la sua nama? Charli. E la sua nama è Charli. E la sua nama è Charli. È un po' di più. Sì. Sì. Chucky. Sì. 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 No, vabbè, ti prevedo meno questo, no? Ma che male? No, vabbè, ti prevedo. Facciamo il mio guardo. Il chico, come va a finire? E' il mio che mi sembra simpatico. Non piangere. Non mi sembra l'amanzo. Si. Toc. Il marchio è tutto. Oh no. Se non avessi avuto il marchio è comunque... Oh madonna, è sospesso. Io non l'ho capito a questa parte cos'è. Beh, lo lascio. Lascio. Non mi sembra l'amanzo. Ma che se è un uccolo. Si è un uccolo. Non, non mi sembra l'amanzo. Si è un uccolo. Non mi sembra, perché io sono amici. bellissimo con il capo ma vai via ma vai via I'm the one who will have to watch you murder the world so if there's even a small chance that we can save you I won't let you walk out of this room well you think you have a choice I think the mark is changing you're wrong am I because the Dean Winchester I know would never have murdered that kid that's what I'm going to say I'm going to go to the house but why do you leave me? I'm going to kill you I don't think that's going to be a problem I'm going to let you go è finita così no? no, perchè non esiste? oh no c'è già concetto così? bello adesso visto quanto... ma cosa fa adesso? non c'è la mica eh no ci siamo le castiacche cacchio di mare io guarda, io di tutto, non ce la posso fare beh? è ammazzato non c'è una lucetta non lo so io cosa ho fatto ah ma no ti dovresti aver rifatto finito cosa hai tagliato? vedo il judge either ah il nome del sub che cavolo trova guarda il capelli qua ma che fine io non commento, io auguro di vedere la finale che del tutto è domani tanto bello per te, sì aio sì, mi sono spoilerata due stagioni che è scaduto qua non importa posso riguardarla senza problemi è stata un po' un agonia però che schifo gente chissà che la undicesima sia sì, ma il problema è che hanno detto che muore Castiel, muore Serbio e muore Crowley tutti muoiono nell'ultima della decima, quindi vi spieghi adesso cosa succede? le succedono le succedono anche Bobby e anche il padre di Dingo poi devi intorno nell'undicesimo a me le succedono tutti vabbè diciamo solo che questo fandom serie quello che è ti porta tanto dolore e basta ma è una gioia esatto che però non è neanche la finale è il pre finale è comunque un episodio un po' usceno chissà com'era il prossimo ti dirò no ve lo guardo io fra quando? fra un mese ma insomma si sa che finirà male la decima si spera l'undicesima che sia decente e basta e niente, l'undicesima inizierò con voi si esatto perché finalmente sarà il 9 ottobre mi può essere il 9 ottobre si che mi avevi detto? ecco quindi ecco aspettiamo l'undicesima al prossimo video ciao